Accordo tra l'ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la stazione zoologica Anton Dorn di Napoli finalizzato allo sviluppo di attività di comune interesse per la ricerca sulla biodiversità marina in stretto legame con lo studio dell'evoluzione della dinamica degli ecosistemi attraverso un approccio integrato e interdisciplinare. L'iniziativa sarà presentata in conferenza stampa la prossima settimana presso la sede del Parco a Vallo della Lucania. È tempo anche di identificazione delle tartarughe caretta caretta sui ditorali del Cilento. Ecco, il Parco sta predisponendo un'azione mirata per la tutela e salvaguardia di questo animale. Sì, quest'anno faremo ancora di più perché la tartaruga sta diventando sempre più un simbolo del nostro parco, un simbolo del nostro territorio, un simbolo della pulizia del nostro mare, un simbolo della bellezza della nostra spiaggia e del nostro mare. Non a caso tutta la campagna di promozione e di comunicazione già dall'anno scorso ormai è incentrata sulla tartaruga. Ecco, quindi c'è una grande attenzione e una grande sinergia e collaborazione con la stazione Andondorn perché sono dei ragazzi straordinari che fanno un lavoro veramente eccellente e non a caso fra una settimana presenteremo qui un protocollo specifico con la stazione Andondorn mirato esclusivamente al lavoro che metteremo in campo per tutto il periodo estivo per le tartaruga perché è giusto e doveroso da parte del Parco Nazionale del Cilento, Valenari e Alburni mettere a disposizione tutti gli strumenti possibili e immaginabili a quei ricercatori, a quei volontari che oggi stanno sviluppando e che oggi continuano a sviluppare iniziative che vanno nella direzione della tutela delle nostre tartarughe, che vengono seguite, vengono chiaramente anche studiate da un punto di vista scientifico. Ecco, rispetto a questo noi presenteremo da qui a una settimana il protocollo e faremo tante iniziative che vanno nella direzione della tutela delle tartarughe caretta caretta.